Per i giorni 14 e 20 dicembre la conferenza dei capigruppo consigliari preseduta da Giovanni Magri ha indotto due riunioni del Consiglio Comunale per deliberare su cinque punti presenti all'ordine del giorno. I primi tre punti riguardano il riconoscimento del debito fuori bilancio dopo le sendenze della Corte d'Appello e del TAR di Palermo. Il quarto punto prevede l'approvazione da parte del civico consesso del regolamento sulla partecipazione civica. L'ultimo punto riguarda la mozione sugli aiuti alle famiglie e ai commercianti in difficoltà per far fronte al caro Bollette. Era in realtà il 7 novembre quando ho provveduto a depositare questa mozione che è stata calendarizzata in Consiglio Comunale solamente a dicembre. È una mozione che mira ad impegnare l'amministrazione a stanziare fondi, a proporre dei bandi finalizzati ad aiutare economicamente le famiglie più disagiate, i piccoli commercianti e gli artigiani. Ho ritenuto opportuno e doveroso proporre questa mozione in considerazione del fatto che la congiuntura economica globale, e soprattutto dell'Italia, comporta la necessità che le istituzioni intervengano a favore dei propri cittadini. 14 e 20 abbiamo la sessione di dicembre e noi lavoriamo appunto in sessioni, quindi qualora dovessimo esploitare tutti i punti, il 14 finiremo il 14, eventualmente già abbiamo la data del 20.